Presentato per la prima volta nel 98, il Fendt 700 Vario ha ben presto scalato il trono nel segmento dei trattori con trasmissione a variazione continua. Giunto ora alla terza generazione, è stato ulteriormente perfezionato. Con un nuovo modello di punta, il 718 Vario, la potenza massima sale a 180 CV. I quattro modelli della nuova serie 700 Vario ora si propongono con potenze da 130 a 180 CV. Per i lavori di aratura in aziende di medie dimensioni, per i trattamenti su grandi estensioni e per i lavori conto terzi, i 700 Vario sono sempre un'ottima scelta. La sua grande versatilità ne consente un uso permanente nell'arco di tutto l'anno. È così che un trattore diventa conveniente. Un sistema di gestione avanzato consente di adattare il funzionamento delle prese di forza al tipo di attrezzatura e dalle condizioni di lavoro. L'impianto idraulico della serie 700 Vario è stato concepito per ottenere prestazioni e flessibilità senza confronti. Movimenti di correzione rapidi ed elevate portate d'olio vengono garantite dal sistema idraulico Load Sensing, dotato di distributori gestiti elettronicamente. Il concetto della trasmissione Fendt Vario consente di incrementare la produttività riducendo tempi di lavoro e consumi, sempre e senza compromessi. Scoprite i vantaggi della tecnologia Vario, nei campi, alla stazione di rifornimento e su strada. Se volete essere veloci nei trasferimenti senza rinunciare al comfort, se la sicurezza per voi è importante e se vi servono abbondanti riserve di carico, il 700 Vario riuscirà a soddisfarvi.